salve a tutti benvenuti a questo nuovo video per mostrarvi un altro degli oggetti che breve troverete in vendita nel nostro store ebay specializzato nel trattare macchine d'epoca e di altro di altra tecnologia parliamo di un marchio molto noto ieri ho pubblicato un video su un toshiba dvr 52 dopo 20 minuti è stato acquistato quindi c'è molto interesse su queste macchine che sono poi molto molto qualitativamente parlando buone la macchina di cui parlo oggi rispetto a quella di ieri ha una marcia in più perché non è un dual recorder ma è un tri recorder quindi registra su tre supporti vhs hdd interno e dvd è il toshiba rd xv 48 dt macchina stratosferica io in altri miei video in cui ho ritratto questa macchina l'ho ribattezzato il mostro perché è veramente un oggetto che ci consente di fare tutto quello che si può fare con un video registratore innanzitutto parlando di hardware è un prodotto top top stra top di gamma 6 testine hi fi stereo per la sezione vhs che sia pal che secam come il dvr 52 ripreso ieri anche questo è compatibile con i supporti francesi quindi nessun problema con lo standard secam e pal abbiamo un hard disk interno da 160 gigabyte che vi può sembrare rispetto alle capienze odierne piccolo ma vi assicuro che non è così perché alla risoluzione in cui si catturano registrazioni con queste macchine 160 giga sono un'infinità parliamo forse di un centinaio di ore di registrazione in sp quindi sono comunque tanta roba se volete divertirvi ad ampliare la capienza dell'hard disk smontate le viti togliete l'hard disk ce ne mettete uno da 500 giga da un terra insomma come vi pare e ampliate ma non è assolutamente necessario io non sono riuscito mai a riempirlo tra l'altro nonostante ci ho registrato di tutto e di più la sezione dvd è un rv meno r meno più rv più r quindi la macchina registra su tutto e soprattutto lo fa in maniera diciamo tridirezionale io posso registrare da vhs a dvd da dvd a vhs da dvd a vhs hard disk da hard disk a dvd da hard disk a vhs cioè posso fare quello che mi pare e ora andremo a dimostrarvelo proprio perché questa macchina è fatta per chi ci si vuole divertire a tempo libero a tanti ricordi da digitalizzare e vuole fare diciamo della digitalizzazione una cosa seria insomma allora scusate ho richiuso erroneamente il carrelletto del dvd andiamo a prendere un disco riscrivibile lo stesso che ho usato nel video di ieri lo inseriamo così andiamo a fare tutti i settaggi iniziali allora la macchina va arriva col libretto di istruzioni eccolo qui rdxv 48 è in inglese ma ahimè ormai insomma l'inglese è abbastanza tecnico quindi non ci sorrebbero essere problemi a capirlo qualsiasi cosa vi sono vicino io per aiutarvi nelle impostazioni che non riuscite a fare perché il libretto non è italiano il telecomando originale quindi la macchina ha il suo original remote infatti vedete vcr hdd dvd cosa fantastica la macchina sul frontale a tre colori che sono ovviamente relativi ai tre supporti hard disk blu vcr giallo hdd verde è molto comodo averli anche sul telecomando così si riprendono con un pressione di un tasto i supporti richiesti ma è anche molto comodo per una visione di impatto istantanea senza doversi chiedere cosa sto vedendo lo riconosci dal led colorato che si accende allora andiamo nel menu che con grossa sorpresa per essere un 48 che è una macchina fabbricata soprattutto per il mercato estero questa anche il menu in italiano se trovo il tasto setup sul telecomando ve lo faccio vedere eccolo qua rari e pochi esemplari erano stati prodotti per il mercato italiano e francese e questo è uno di quelle lì quindi è una macchina molto difficile da trovare con il l'osd interno in italiano quindi abbiamo veramente un prodotto raro che vi arriva in condizioni veramente eccellenti guardate voi stessi la macchina è pari al nuovo ci sono degli impercettibili segni ma io li tengo come sapete in maniera sposto anche qui per farvi vedere insomma è tutto liscio nero lucido non ci sono proprio semmai impercettibili graffiettini ma roba da non farci caso il pannello frontale è immacolato come vedete voi stessi anzi avvicino la camera quelli che vedete lì sono pelucchi di polvere purtroppo la plastica il policarbonato attira la polvere ma sono tutte cose che se ci passi il dito vengono via qui davanti abbiamo lo sportellino per gli ingressi a v eccolo qui la macchina ha tutto quello che ci serve per essere compatibile con i nuovi televisori perché ha tutte le future di ultima generazione ma soprattutto ha l'hdmi quindi esce l'hdmi per essere collegato sul televisore senza scart io uso sempre la scart se il televisore ce l'ha meglio la scart per vedere le videocassette si vedono meglio in analogico è anche presente un digitale terrestre interno che però ai noi ha le frequenze vecchie quindi potrebbe non essere compatibile con la vostra posizione non è dvbt2 è t1 quindi sono le vecchie frequenze allora cancelliamo il disco che abbiamo inserito menu dvd con il telecomando vado nella formattazione seleziono modo video inizio e formattiamo il disco ci metterà una trentina di secondi intanto che formattiamo il disco andiamo a inserire anche una videocassetta i dieci comandamenti colossal degli anni che furono anni 50 fine anno impresso 55 56 quindi un nastro che ritrae un film con una pasta veramente datata la cassetta è già stata caricata torniamo sul dvd per vedere il progresso della cancellazione ci siamo quasi 90 per cento a breve ci darà direttamente il 100 per cento per cento per poi fermarsi allora settiamo in questo momento abbiamo un supporto vhs al supporto dvd voglio fare la digitalizzazione voglio trasformare la vhs in digitale premo il tasto dubbing che trovo qui sul telecomando mi si apre una finestra con quello che posso fare come vedete non tutte le voci sono in bianco quelle in bianco sono quelle possibili questo perché il alcune possibilità non sono diciamo appunto possibili perché l'hard disk è vuoto e andiamo a fare una copia da vcr a hdd mi chiede la velocità io sceglierò sp e vado a dare l'ok con il telecomando la macchina mi chiede la conferma e comincia la duplicazione come vedete sto copiando da vcr a hdd intanto vi faccio notare la qualità della riproduzione vhs signori parliamo di una cassetta che ha 30 anni il film ne ha 70 di più forse non lo so quindi passatemi anche un minimo di rumore che poi vedrete sparire nella copia digitale perché comunque tutto questo rumore flickering quello che vedete poi sarà addolcito dall'algoritmo interno di copia che lo appiattirà pulendo fortemente la registrazione sto registrando lo vedete anche dal display insomma la macchina sta in dubbing e in record quelli sono i minuti che abbiamo i secondi che abbiamo già registrato come vedete sul la spia dubbing si è accesa e il supporto hdd viene enfatizzato a farci capire cosa stiamo copiando non vi faccio perdere molto tempo copia finita hdd premo play e andiamo a rivedere la registrazione fatta scusate lo devo fare dal telecomando ecco qua questa è la copia e infatti come avete visto qui intorno tutto quello sfarfallio si è molto attenuato e sembra quasi di vedere un dvd concedetemelo avete visto l'immagine precedente qui era uno schifo veramente uno schifo era tutto bianco sfarfallante una rumore fastidiosissimo guardate la copia in digitale com'è bella ora io cosa posso fare avendo anche riempito il dvd l'hard disk posso andare a rifare il dubbing e mi usciranno altre voci come vedete rispetto a prima e andiamo a fare una copia anche su dvd vcr dvd do l'ok sempre in sp e andiamo a scrivere sul dvd che abbiamo inserito e infatti rispetto alla copia precedente in cui si era acceso il blu ora si è acceso il verde invece dell'hdd è acceso il rosso sul dvd quindi sto digitalizzando sul dvd andiamo ad aspettare un minutino tanto per avere la copia completa come vedete tutto molto semplice la macchina è in condizioni tecniche spaziali l'ho revisionato tutto di realtà abbiamo risultato in due perché la sezione hard disk è stata ripristinata smontando l'hard disk dal mio collega che si occupa di software lui è molto più bravo di me in queste cose a livello software ha pulito l'hard disk completamente formattandolo ripristinando tutti i settori facendo dei test approfonditi e il hard disk interno è perfetto non ha un cluster bruciato è tutto utilizzabile e la parte elettronica e meccanica l'ho ripristinata io andiamo a fermare di nuovo la registrazione stavolta la macchina ci metterà un po perché deve scrivere il disco quindi deve avere almeno quei 30 40 secondi per completare la scrittura questo video vi tornerà poi utile quando dovrete fare voi il dubbing così da evitare anche di utilizzare il libretto delle istruzioni ci siamo velocemente arrivati al 100% sono di nuovo sul pannello frontale riapro appena finisce ecco il menu dubbing e come vedete si è ulteriormente accesa di nuovo una voce in più cosa non posso fare come vedete non posso scaricare su vcr le due voci hdd su vcr e dvd su vcr non sono possibili perché la cassetta che ho inserito non è registrabile ma se io inserissi un nastro registrabile anche quelle voci diventerebbero bianche quindi prezzo alto molto alto ma è un motivo semplice questa macchina costava tantissimo già all'epoca oggi è introvabile nel mercato italiano assolutamente introvabile probabilmente c'è solo questa con menu italiano interno con telecomando originale libretto di istruzione originale le condizioni sono fantascientifiche non trovate un altro così io vi assicuro che non vi darà un problema chi mi segue sa come lavoro guardate i miei feedback su ebay tra l'altro in descrizione a questo video trovate il link per vedere l'inserzione guardare anche le meccaniche interne perché ho fatto delle foto a macchina aperta dove ci sono tutti gli esplosi delle macchine delle meccaniche interne chi mi segue sa che non vendo ciarpame non acquistate macchine come queste a 100 euro perché non durano niente sono macchine che hanno vent'anni sulle spalle vanno revisionate completamente non comprate da pinko pallino una macchina a buon mercato e vi dice che la revisionata perché non è assolutamente vero non vi ho fatto vedere però la copia fatta su dvd eccola qui la stiamo rivedendo e adesso la qualità finale è ancora migliore perché la copia migliore la si ottiene andando direttamente da vhs a dvd quindi il miglior modo per digitalizzare un file vhs e metterlo direttamente su dvd da qui poi potrete estrarre tramite copia della cartella video ts che si è creata all'interno del dvd il file direttamente su una memoria rigida pennetta usb hard disk esterno interno quello che volete a quel punto vi diventa davvero eterno perché ce l'avete nel pc e tutti i vostri ricordi più cari che vi sono costati sacrifici e tempo li avrete digitalizzati quindi è vero che siamo sopra i 300 euro come costo per questa macchina ma quanto vale un vostro ricordo quanto vale una vostra vacanza un viaggio di nozze una cerimonia dei vostri figli ditemelo voi se non vale 300 euro questo è quello che vi propongo toshiba rd xv 48 dt telecomando originale libretto istruzioni macchina in stato di grazia pari al nuovo uscita hdmi decoder digitale interno inserito ma di vecchie frequenze il tutto pari al nuovo grazie come sempre per avermi seguito e buon acquisto su ebay grazie a tutti